Siamo alla fine dell'anno 2014 e vorrei cogliere l'occasione per augurare a tutti buon Natale e felice anno nuovo sia ai giocatori in primis, al mister, ai tifosi, a tutta la squadra della dirigenza e a tutto il popolo vigianellese che devo dire, avendo girato tantissimo, è veramente un popolo speciale e ha delle peculiarità e delle particolarità davvero eccezionali. Spero che queste vacanze verranno trascorse un po' da tutti all'insegna del divertimento, della gioia e anche dello sport perché durante le feste lo sport non guasta mai. Noi del Castrumbianelli, oltre a continuare i vari campionati che stiamo svolgendo sia a livello giovanile che a livello elite ci cimenteremo quest'anno anche nel primo torneo natalizio riservato ai settori giovanili per ragazzi di età compresa tra i 12 e i 14. per cui invitiamo chiunque voglia passare un pomeriggio diverso a guardare i ragazzi giocare a seguire questo torneo che a nostro avviso risulterà molto interessante. Tanti auguri Augurani Tanti auguri Tanti auguri Tanti auguri Auguri di buone feste a tutti Auguri di buone feste Tanti auguri a tutti i tifosi del Castrum Tanti auguri A tutti i tifosi del Castrum Auguri Tanti auguri di buon Natale e felice anno nuovo Forza Castrum Anche dalla redazione di castrumbianelli.it Tanti auguri di buon Natale Un augurio speciale a tutti i tesserati del Castrum E soprattutto ai nostri tifosi Affinché possa essere un felice Natale Soprattutto al 2015 All'insegno del Castrum Forza Castrum Un augurio ai calciatori del Castrum Dalla redazione di castrumbianelli.it E a tutti i tifosi E a tutti i cittadini di Vigianello Ciao Tanti auguri a tutti Auguri a tutti Ciao a tutti Faccio i miei auguri di buon Natale A tutti i giocatori tesserati con il Castrum Dall'Anelli Dal più piccolo che abbiamo del 2002 Al più grande del 1976 Siamo una bella e larga famiglia Faccio i miei auguri anche ai mister Caputo e Libonati del settore giovanile Che ringrazio in quanto mi permetto Di poter dare una mano anche più Piccoli E sono veramente grato Faccio i miei auguri anche al Presidente A tutta la dirigenza del Castrum Bianelli Alla redazione di castrumbianelli.it A chi viene a vedere le partite A chi fa il titolo di non da lontano A chi ha fatto la storia del Castrum E chi la farà E il mio primo Natale con il Castrum E un desiderio da esprimere Facete un buon mangiato a panettone